E si allunga la striscia positiva, 11 risultati consecutivi, 41 punti, terzi in classifica generale, una bella soddisfazione, anche se la partita praticamente oggi non si può parlare di partita perché in un acquitrino in questa maniera, in una pallone in questa maniera era impossibile toccare il pallone, lo si è visto veramente bene, non si è visto calcio ma si è visto tanta volontà, tanto gioco, tanto attaccamento a colori, tanta passione. Allora Mirko La Torraga è una soddisfazione non dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista caratteriale dei nostri ragazzi. Sì, prendiamoci tre punti, siamo contenti per il raggiungimento di questa posizione in classifica e diamo merito agli avversari che sono venuti a dare battaglia oggi, quindi complimenti anche a loro. Quindi, Presidente Francesco Martoglio, finalmente è stato raggiunto l'obiettivo che la società si era prefissa all'inizio campionato, terzo posto, anche se sei punti che distanziano la prima classifica sembrano tanti, ma con quello che sta facendo la Forti Sarezzo in un terreno in questa maniera, come si è detto, dopo aver spugnato sia Loro Ciuffenna che Castel San Nicolò, veramente nulla è più impossibile per questa squadra che ha mostrato oggi di avere tanto carattere. Sì, abbiamo fatto un gran girone di ritorno, stiamo facendo veramente molto bene, è chiaro che oggi il campo è stato quello che è stato. Fortunatamente è arrivata questa vittoria, nei primi secondi della partita siamo riusciti ad andare subito in rete, peccato per l'espulsione di Cencini, che comunque sia, peserà sulla prossima partita, avendoci il derby con il San Marco, però insomma siamo contenti, ci prendiamo questi tre punti, insomma non è una sconfitta, siamo al tenso posto e abbiamo ancora altre partite importanti davanti in cui non bisogna mollare niente a nessuno.